Com'è stato il viaggio di Fikret in Terra Amara? Il personaggio di Fikret Fekeli è interpretato da Furkan Palali. Fikret è un giovane arrivato a Kukurova con l'obiettivo di creare grandi tensioni e far cadere Demir Yaman. Vuole trovare il marito di Zuley a per porre fine ad anni di dolore e sofferenza. Sua madre era l'amante di Adnan Yaman, il padre di Demir. A seguito di questa relazione, nacque Fikret e i due furono abbandonati a se stessi in condizioni di estrema povertà. Fikret, un uomo pieno di odio. Quando Fikret apparve in Terra Amara era in missione per uccidere Demir Yaman, ma sapendo che non sarebbe stato facile, escogitò e creò vari piani per abbatterlo. Così chiamò Umit a sostenerlo e il ruolo della donna fu quello di sedurre l'uomo. Da quel momento iniziò una feroce battaglia tra Fikret e Demir e sebbene Fekeli cercasse di far capire al nipote che Yaman era un uomo tranquillo. Ciò non impedì al giovane di minacciare ripetutamente Demir. La vecchia promessa di Fikret. Demir e Fikret sono fratelli di padre, ma Adnan Yaman era interessato solo al primo. Uno dei ricordi di Fikret che gli causa grande dolore da bambino fu quando vide Demir ben vestito nella villa, mentre lui aveva solo scarpe rotte e un posto dove vivere. Prima che sua madre morisse, Fikret fece una promessa. Non preoccuparti mamma, gliela farò pagare per tutto il dolore che ti hanno causato. Fikret e Aliramet Fekeli Aliramet Fekeli fu molto sorpreso quando vide che suo nipote Fikret era arrivato a Kukurova. Tutto accade nei locali della fabbrica dove il giovane straniero osserva Yilmaz senza fermarsi. Fikret trova l'amore. Uno dei primi amori di Fikret fu Mujgan, il medico che incontra al suo arrivo in paese. Questo nonostante il giovane non cercasse una relazione e volesse solo trovare Demir Yaman per ucciderlo. Mujgan si innamora di Yilmaz, ma dopo la sua morte non vuole più pensare all'amore fino all'arrivo di Fikret. Fekeli avverte il nipote di essere molto cauto con la dottoressa e di non suscitare false illusioni. Purtroppo per Fikret, la donna muore in un incidente aereo in cui non ci sono sopravvissuti. Ha cercato di essere un buon padre. Mujgan non ha lasciato solo Fikret con il cuore spezzato, ma anche il suo giovane figlio Keremali. Dopo aver appreso della morte della ragazza, il nipote di Fekeli decide di prendersi cura del bambino e cerca di essere riconosciuto come il vero padre. L'uomo ha dovuto affrontare diversi stratagemmi legali per separarlo dal bambino, ma grazie alla sua astuzia e al sostegno della sua famiglia è riuscito a tenere Keremali. Il grande dolore di Fikret Fikret dimostrava di essere un uomo forte e che nulla poteva causargli dolore. Tuttavia, quando suo zio, Ali Ramet Fekeli, muore, il giovane crolla. Un apparente attacco di cuore colpisce lo zio, che cerca ripetutamente di far rinsavire Fikret per fermare i suoi propositi di vendicarsi dei nemici. L'amore per Zuleia. Zuleia rimane vedova per la seconda volta quando Demir Yama muore, ma l'uomo che le fu sempre accanto è Fikret. Il giovane diventa il suo fazzoletto e promette di aiutarla a trovare i responsabili. A poco a poco si innamora della proprietaria della villa, anche se non vuole illudersi. Alla fine si rende conto che la donna non potrà mai ricambiato il suo amore. La sua rivalità con Akan Gumuolo. Ibrahim Celico l'interpreta Akan Gumuolo. Nella sop'opera Fikret e Akan hanno una grande rivalità perché Akan è arrivato al villaggio sotto falsa identità e si fa chiamare Mehmet Kara. Per questo motivo Fikret cerca a tutti i costi di indagare su di lui e di dimostrare a Zuleia che non deve fidarsi di quest'uomo, poiché ha un passato criminale insieme ad Abdul Kadir e Vap Keskin. All'inizio la donna non crede a Fikret, ma il tempo avrebbe poi rivelato tutta la verità. Il matrimonio di Fikret e Zeynep. Dopo che la sua vita è cambiata molto, Fikret ha trovato il vero amore in Zeynep. L'uomo non è più l'emarginato odioso e vendicativo che voleva solo uccidere i suoi nemici. L'amore gli ha fatto aprire il cuore e innamorare di Zeynep, un'insegnante inviata a Kukurova per lavorare nel campo dell'istruzione. Una delle più entusiaste di questa notizia è Lutfai, la zia di Fikret, che lo vede, dopo tanto tempo, felice e cambiato in meglio. Il destino di Fikret cambia e si forma una famiglia alla fine della famosa sop'opera Terra Amara. Cosa è successo a Fikret dopo il matrimonio con Zeynep? Molti anni dopo il matrimonio, appare un Fikret fecheli di 74 anni. Si ritira a 72 anni e lascia l'attività al figlio Kerem Ali. La figlia avuta da Zeynep si chiamava Mujgan, che divenne ingegnere tessile. Kerem Ali e Mujgan Fecheli trasformarono l'eredità del nonno, la Ciampa Mook Enterprises, in una gigantesca fabbrica tessie. Un finale bellissimo per il nostro amato Fikret.